ben trovati a tutti dalla nostra sede di castellanze di marconi 23 palazzina storiche che ormai c'è da 50 anni dal 74 quindi 50 anni quest'anno siamo io e mio cugino luca figura storica che ormai mi segue da tantissimi anni e vi ricordiamo come sempre oltre a vendita di orologi siamo siamo molto molto forniti abbiamo l'assistenza quindi laboratorio di orologeria col nostro già interno abbiamo la vendita di borse di cui adesso a breve apriamo un negozio a milano vi darò tutti i dettagli nella prossima trasmissione abbiamo chiaramente anche il comparto gioielleria oreficeria dove abbiamo sia la vendita di oro gioielli e sia laboratorio interno e incassatura rodiatura lucidature saldature diciamo ci occupiamo dei nostri clienti a 360 gradi quindi qualsiasi esigenza qualsiasi cosa volete vendere il vostro oro abbiamo anche un reparto di compro oro con bonifici istantanei anche i vostri rodi volete vendere a collezioni interi facciamo bonifici istantanei cosa vuol dire che uscite la nostra boutique coi soldi direttamente in banca non facciamo se poi volete magari facciamo anche delle contovisioni ma non tendenzialmente ne compriamo preferiamo comprare quindi qualsiasi cosa volete permutare vendere basta facciamo un po di tutto e di più quindi direi oggi di partire con una serie di gmt nello specifico il gmt ultimo nato il man quello che chiamano mancino sprite chiamato come volete con bracciale oyster nuovo ovviamente appena arrivato e poi abbiamo i due pepsi nelle due versioni con bracciale giubilè e bracciale oyster vi ricordiamo che questo questa serie di orologi soprattutto con ghiera blu e rossa rolex in questo momento ha sospeso delle consegne voci dicono che ci sono problemi ovviamente non confermate ma dicono che ci sono problemi nella produzione e che soprattutto quello che più ci interessa potrebbero essere tolti di produzione da parte della casa madre e quindi diventano veramente interessanti dal punto di vista collezionistico e di investimento e i prezzi forse sono gli unici o uno dei pochi modelli in controtendenza in questo ultimo periodo perché in una fase calante questi due sono saliti rispetto agli ultimi mesi proprio in previsioni dell'uscita tra poco ci sarà la fiera della fiera insomma watch is a wonders per cui vedremo che cosa succederà se adesso c'è da dire che oggi sono calati rispetto all'aumento c'è stato nel post lockdown ma perché perché siamo partiti da prezzi del 2020 molto molto ma ragionevoli e oggi sono sempre saliti 7 8 9 10 per cento all'anno sono raddoppiati non siamo tornati niente meno che ai prezzi del 2020 e adesso la crescita è ripartita infatti vediamo alcuni pezzi tipo i pepsi retona che stanno risalendo noi siamo sicuri e non solo noi perché vediamo da quanto stiamo vendendo che siamo partiti diciamo i primi giorni di aprile e abbiamo venduto veramente l'impossibile tant'è che ci mancano diversi pezzi a farvi vedere perché comunque abbiamo venduto veramente moltissima merce però invadisco vedete roggio che cercate ci chiamate ma in tre quattro giorni ve lo ricopriamo sottolineare il numero di orologi importanti patek che abbiamo in mezzo molti fa tec ma ti siamo un po scarsi di patek però chiedeteci le abbiamo qui ne arriva un acqua naut blu oro bianco un acqua naut verde voi chiedeteci le cose 56 12 59 80 chiedeteci quello che magari non vedete che comunque in poco tempo noi o stanno arrivando voi procuriamo senza supera non abbiamo solo rolex ma abbiamo anche cose un po più vintage emoteva cheron questo è il famoso figlias è una coppia venduta da me negli anni 90 perché non eravamo concessione di bacheron condizioni perfette scatole garanzia ed è una coppia che adesso che se ne vede i prezzi che adesso c'è da spaventarsi noi diciamo che tutti e due insieme li vendiamo intorno ai 18 mila euro quindi abbiamo un offerto dagli stati uniti su crono 24 per questo qui non so se ci sarà io riesco nella prossima trasmissione prima vendere i nostri clienti italiani però chiaramente quando arriva la proposta dall'estero veniamo tantissimo in tutta europa chiaramente in tutto il mondo vediamo e poi c'è un po di tutto dal gira prego laurea famoso laureato in oro rosa quadrante blu è un prezzo molto interessante siamo intorno ai 24 mila euro scatola garanzia oggi ho presente come nuovo abbiamo il bascerò onore del mondo oggi ho anche questo rischio da trovare roversis nuovo ma indossato pellicolato con i due cinturini e siamo a 28 mila euro oggi è stupendo subacchi 150 metri vetro zaffero vedi cosa abbiamo diverse schedule giallo e poi ogni tanto non lo trattiamo moltissimo perché è un po complicato da però abbiamo anche dei basceron d'epoca dei patec d'epoca eccoli qua oggi non votare su uno sfizio con 5.500 euro sicuro tantissimo maggiore garantissimo carica manuale oro giallo tutti revisionati ricordiamo che noi i nostri oggi sono tutti previsionati per un nostro orologiaio angelo arriva l'orologio prima di comprarlo lo controlliamo prima di pagare lo controlliamo anche perché è purtroppo purtroppo diciamo ogni volta ogni trasmissione è pieno di fake e devo dire che ormai è impossibile lavorare senza l'orologiaio o ci sia vari di una struttura esterna o sono veramente impossibile che erano orologi nuovi con scatola garanzia ed oggi sono falsi magari alla cassa originale braccia originale ma il movimento è falso quindi fate molta attenzione a dove comprate cioè mi ero già io 30 anni di esperienza angeli ha preso di fare un angeli nome di fatto di apri smonta fa veramente di tutto per dare la sicurezza a noi che paghiamo e voi che comprate di avere un orologio originale attenzione abbiamo comprato un sacco di macchinari abbiamo guardato anche dei microscopi per controllare la i numeri seriali sotto dei logi datati incisi sulla cassa abbiamo purtroppo trovato molti orologi con numeri limati e riscritti anche se hanno la garanzia cosa vuol dire hanno preso una garanzia di un orologio ha limato i numeri li hanno riscritti ma voi se lo sono mandati in rolex oggi viene magari sequestrato quindi attenzione non solo i falsi ma anche gli orologi purtroppo semi taroccati devo vedere qualche altro pezzo eccoci qua ancora con dei gmt avevamo finito con dei pepsi e lo sprite in questo momento abbiamo un gmt diciamo della vecchia guardia un 2007 pardon acciaio oro entrambi un 2007 che stiamo proponendo a 15 mila euro come nuovo come vedete le condizioni sono perfette e diciamo il suo fratello minore quindi nuovo l'ultimo prodotto straricercato bracciale giubilè è un 2024 nuovo nuovo appena arrivato che stiamo venendo a 19.500 euro questo avevamo preso guardate le condizioni di questo loggio qui è vero si possono magari trovare anche a 500 euro in meno però bollino sotto quei numeri loggio praticamente ma indossato quindi veramente un pezzo da collezione questo è il classico pezzo da investimento questo signore l'ha acquistato nel 2007 l'ha messo ha deciso di non utilizzarlo in previsione del fatto che sarebbe stato avrebbe dato dei risultati come in effetti è stato e l'ha tenuto via non l'ha usato l'ha tenuto in cassaforte e l'ha rivenduto a valori molto forse ha più che raddoppiato se più che raddoppiato come per esempio adesso è giusto operando di investimenti questo è un 16 610 ghiera verde trattato questo cliente l'ha portato a fare un service a ginevra quindi pellico originali rolex rimesso da rolex da ambo le parti condizioni perfettissime e questo gioco che fate conto negli anni 2005-2006 2004 costava circa 5.000 euro e soggio che noi proponiamo a 16.000 euro per qualcosa di sconto che lo facciamo però cliente ce l'ha venduto ha veramente fatto una grandissima performance e di guadagno questo diciamo il suo fratello moderno il chi era verde ceramica ero oggi da siamo a questo no si è l'ulto luca ho fatto confusione anche abbiamo anche un altro normale kermit normale questo 19 nos ma indossato siamo intorno ai 20.000 euro che questo audio fuori produzione il nuovo ma indossato in condizioni veramente perfette diciamo che abbiamo veramente tantissimi tantissime opportunità perché abbiamo i su mariner ceramica 6 40 mm di 41 in arrivo questo 2020 a 12.800 euro ma indossato abbiamo le cinque cifre abbiamo i si dweller abbiamo veramente tantissime opportunità di su mariner abbiamo il fantastico james cameron quadrante blu sfumato nero e siamo a 14.500 euro un 2021 pare a nuovo tutti lo giusto facciamo dire sono tutti full set vuole fare una piccola digressione sul discorso full set oppure senza scatole garanzia negli ultimi anni soprattutto grazie o a causa del collezionismo è diventato molto importante o quanto meno molto richiesto il fatto di avere il completo cioè scatola garanzia originaria dell'orologio e libretti tutto quanto concerne l'orologio quando è stato acquistato è sicuramente importante ribadisco dal punto di vista collezionistico ma anche per un eventuale futura rivendita è anche vero che l'orologio che non abbia eventualmente la garanzia originaria ma che sia certificato da noi o da nostri colleghi professionisti e professionali comunque non deve essere disdegnato intanto perché si compra a valori inferiori e quindi già questo inferiori ma comunque che danno delle performance di investimento importanti comunque ricordiamo i famosi poi io mi ricordo in anni 90 si compravano i dettono a carica manuale i famosi poi noi ma i 6263 6265 624 0 si compravano a 12 milioni di lire 15 milioni di lire senza garanzia gli stessi oggi che adesso vedete 80 90 mili euro senza garanzia quindi però l'orologio recente senza garanzia io vi sconsiglio di comprarlo se sono d'epoca ci sta ovviamente ripeto abbiamo visto paul newman alle aste da mezzo milione di euro senza le garanzie l'orologio moderne senza garanzie diciamo che lasciano un po a desiderare io ve lo sconsiglio boutique di castellanza via marconi 23 ringraziamo collaboratori della rosi la rosi qua vicino a noi ringrazio mio cugino luca figura storica che c'è da sempre e tutti i miei collaboratori che ringrazio e ringrazio tutto tutti i nostri clienti grazie ancora e ci vediamo alla prossima ciao ciao presto ciao ciao